Peter, come stai innanzitutto? Sì, adesso sono in Stovalchia e bene. Domenica correrai i campionati nazionali? Sì, adesso domenica abbiamo i campionati. Non sei più una novità, ma veramente i tuoi limiti non si conoscono davvero. Hai fatto un giro di Svizzera, sei stato superlativo. Sì, ho giro di Svizzera e l'Andrea trova molto bene. Prima anche non ho pensato che posso fare così bene. Volevo vincere una tappa e poi sono riuscito a vincere due, ma la pianura è andata molto bene. Farai il Tour de France? Sì, non faccio il Tour de France perché hanno deciso che faccia meglio Vuelta per me perché il Tour è molto importante per Ivan Basso e forse è meglio che aspetta per il prossimo anno. Ma tu pensi un giorno di poter essere competitivo anche nelle grandi gare a tappe o pensi di essere un corridore tagliato per le corse di un giorno? Sì, ho corso per un giorno e un'altra cosa. Le corse tappe, ma tre corse un giorno come Rubè e Padri sono molto dure e devo ancora crescere così. Ora non sono sicuro che voglio fare bene anche le corse di un giorno. Tu hai impressionato perché tu puoi tenere testa ai grandi velocisti come Buassonaghen o anche Ushob? Sì, ma quando sono in forma, sì, sono anche veloce, ma tutto dipende da come sto con la forma. Il tuo programma nell'immediato, quale sarà? Adesso corro nazionali, poi faccio ritiro a San Pedrino e dopo corro in Tour de Polonia e Vuelta.